Sono quello dei maritozzi, si ricorda? Due anni fa io ho portato i maritozzi, ora io ho portato le bombe con la crema, sono buoni, sono buoni, sono dietetici? Sono buoni, no, questi si ripiena almeno, si ripiena un pochetto, ho visto che sta un po' acciaccato, capito? Se rifiamo il selfie, dai, io, che fai? La rietta è meccata. Sono pontefice, sono l'aldo maritozzo, mi rimembra? Due annualità o sono, l'ho approvvigionata di maritozzi ci desser, or ora le porgo degli ordini crema farciti dal potere detonante, si è cauto, è cosa buona, è giusto, è davvero cosa buona, a qualità dimagranti, sono buoni, già no, posseggono proprio adattali da fornirle copiatori in vigorimento, poiché lei appare di debilitato aspetto, vogliamo farci un selfie, immortaliamoci, su dai, al figo santo, subito, The Pope and me, I'm back.